Un partito plurale, aperto, partecipato, sinergico e collegiale è così che immagina il PSIAC Serta il nuovo segretario cittadino Catello Tronco che stamattina si è presentato alla stampa nella sezione di Via Roma. Il partito ha avuto un momento di grande esaltazione nelle ultime competizioni comunali e oltretutto addirittura il secondo partito della coalizione. Questo grazie all'opera fattiva, concreta e qualificata di chi mi ha preceduto. Quindi si continuerà sul solco già tracciato? Certamente non c'è da modificare niente perché per la vita bisogna solo concordare alcune cose che sono essenziali per la vita del partito. Innanzitutto quella che è la nostra linea futura, quella che è da oggi, sarà un partito aperto, partecipato, sinergico, plurale e non monocratico nel rispetto dei ruoli di ognuno di noi. Abbiamo trovato già da questo momento una sinergia con il contributo fattivo e molto produttivo da parte dei consiglieri comunali i quali mi hanno garantito la partecipazione in qualsiasi momento della vita della città e della vita dell'esecutivo. E di volta in volta concordiamo insieme, abbiamo avuto già la dimostrazione in questo consiglio comunale precedente, che una cosa concordata a livello di partito è stata tenuta in grossa considerazione dagli interventi di fatto sia dal capogruppo comunale che da Pesquale Corvino. Una sinergia tra dirigenza e rappresentanti socialisti in seno al parlamentino cittadino che è già realtà, stando alle dichiarazioni del consigliere Giovanni Comunale. Noi vogliamo avviare un'azione condivisa su tutte le nostre scelze, tanto è vero che in consiglio comunale le nostre azioni sono state condivise e sono state naturalmente certificate anche da me come capogruppo nel più intervento, quando abbiamo presentato il pregiudiziale sul lodo Cogen Sace e poi la successione molto eloquentemente dal consiglio Pasquale Corvino, che ringrazio perché ha fatto un intervento pacato, ma molto concreto e incisivo rispetto a quella che è stata l'azione di questa amministrazione nei suoi primi cinque mesi di governo. Allora, Troc ha parlato anche di sinergia con gli altri partiti della coalizione. Il consiglio comunale? Naturalmente cerchiamo sempre di condividere l'azione con gli altri partiti, tanto è vero che in questa parentesi del dissesto penso che abbiamo avuto un'azione condivisa con gli altri partiti.